Il percorso che ha fatto la squadra fin qui, e mi riferisco alle ultime partite, raccogliendo quello che ha raccolto, varrebbe a poco, visto che poi domani, come ho detto nelle precedenti partite, mi sembra la prima di queste tre, quindi quella contro Livorno, da considerare come una finale, quindi domani è la finale, visto che è l'ultima del girone di andata e visto che probabilmente ci darà anche una fisionomia diversa da quella che abbiamo ora, perlomeno credo, però senza guardare agli altri e senza guardare alla classifica, anche se fa piacere, bisogna vincere la partita, come? Non importa, anche se poi sappiamo come fare, cosa fare e nell'interpretazione della gara, affrontando tra l'altro una squadra scorbutica, tosta, che verrà qua a concedere veramente poco, pericolosa nelle ripartenze e quindi a maggior ragione bisogna avere bene in testa l'obiettivo, poi il percorso la squadra lo sa. Grazie a tutti. Grazie a tutti.